Niente barche né yacht, l'estate di Checco Zalone è a bordo piscina. Nei momenti di relax tra uno spettacolo e l'altro, è in tour con lo show Amore più IVA, che in inverno andrà in onda anche su Canale 5, l'attore e comico pugliese si gode qualche ora di refrigerio in un albergo a Taormina, cittadina in cui è andata in scena la sua ultima esibizione. Boxer fantasia, con tanti spritz stampati, e cuffiette per sentire musica, Checco viene immortalato dai paparazzi del settimanale Chi in versione casual. Proprio l'anno scorso lanciava il brano sulla barca dell'oligarca, uno sfottò a Putin e alla guerra che all'epoca era appena cominciata, e quest'anno invece prosegue col suo lavoro teatrale. Assente nelle foto Mariangela Eboli, sua storica compagna nonché addetta alla parte amministrativa dell'azienda MZL, fondata da Checco, con un patrimonio di 5 milioni di euro, con cui fa coppia da ormai 15 anni. Assenti anche le figlie Gaia di 10 anni e Greta di 5. Real Video vi ringrazia per averci accompagnato fino alla fine. Per rimanere sempre aggiornati sui nostri prossimi video, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche. Grazie per il vostro supporto.